Direttore Yakhnajiev, che cosa succede adesso? Che cosa ti aspetti che possa accadere in questa fase politica? Dove Conte troverà numeri evidentemente più consistenti rispetto a quelli di ieri del Senato? Permettimi tanto anche io di associarmi alla solidarietà all'onorevole Polverini. Naturalmente penso un po' tutti lo sentiamo. Siamo anche noi e tutta la nostra redazione, senza alcun dubbio ed esito. Permettimi anche di salutare il direttore Piccinini, che conosco da anni, lavoriamo sulle stesse cose. Ecco, noi come tu dicevi, con le nostre telecamere di Agenzia Vista siamo stati presenti e siamo presenti minuto per minuto in questa crisi. In questo momento c'è anche il vertice a Palazzo Chigi con Conte e la maggioranza. Si aspetta Conte che salga al Quirinale entro stasera e in contemporanea il vertice in questo momento anche del centro-destra. E si aspetta alle 17 quello del Partito Democratico. Ecco, che cosa succede? C'è un governo di minoranza, un governo che appare debole in questo momento, senza la maggioranza assoluta del Senato. Il vero problema del governo saranno le prossime settimane, i prossimi mesi, perché il problema si andrà a creare all'interno delle commissioni parlamentari, dove la maggioranza detiene solo 4 sulle 14 commissioni, l'opposizione detiene altre 4 in 6 commissioni, che sono commissioni chiave anche per il recovery plan, anche per un'eventuale nuova legge elettorale. C'è una parità e lì Renzi e Italia dei Valori sicuramente faranno sentire le loro ragioni. Renzi che non ha chiuso completamente la porta alla maggioranza, che invece sembra quasi completamente chiusa da parte delle forze di governo. Sono dei rumors di Palazzo Chigi, danno questa crisi, danno un tempo per risolvere, per cercare di ricomporre questa crisi, di 10 giorni, massimo due settimane, con la creazione forse di un gruppo di responsabili cosiddetti. Il primo tra questi potrebbe essere l'adesione di Nencini ieri sera al photo finish, no? Abbiamo vissuto un po' al cardiopalma questo finish, voto del Senato con due senatori Nencini. E insomma ci vorrà ancora del tempo per capire dove stiamo andando. Io devo salutarti e ringraziarti perché tra poco, perché devo andare subito in pubblicità, sono in ritardissima come avete capito, oggi è l'America che detta i tempi. Voi che siete tra l'altro dei direttori e l'onore Polverino lo capirà bene. Quindi devo salutarvi e ringraziarvi, Piccinini rimane con noi. Grazie onorevole Polverini, ci vediamo presto. Davvero grazie, buon lavoro e grazie ancora al direttore dell'Agenzia Vista, Alexander Yakhnajev. A presto. Noi ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, grazie.